Salmo 119 Salmo 119 Tu che sei stato perseguitato e martirizzato, ma che sei rimasto saldo nella tua fede, concedi a noi la tua protezione e la tua intercessione nel nostro cammino. Salmo 119 Salmo 119 Salmo 119 Salmo 119 Tu, che sei stato modello di servizio e di carità verso i più bisognosi, aiutaci ad essere più generosi e solidali con i nostri fratelli e sorelle in Cristo. Salmo 119 Salmo 119 Salmo 119 Salmo 119 Salmo 119 Salmo 119 Salmo 119